Bella a tutti signori e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941 e oggi siamo tornati con i nostri gamberetti con i nostri gamberetti che continuano la scalata verso il cavolo praticamente perché in questa stagione noi dovremo semplicemente cercare di salvarci senza fare troppi danni non penso che potremo riuscire a raggiungere la promozione o i playoff quindi pensiamo semplicemente a salvarci detto questo signori, prima di partire dal video vi ricordo di iscrivervi al canale vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto che è dato a questa serie vi ricordo di seguirmi su Instagram dove mi trovate come Maullo941 anche perché tramite le stories di Instagram vi aggiorno su dove e quando siamo in live sia su questa piattaforma che sull'altra quella viola detto questo signori, non perdiamo altro tempo e partiamo con il video ok signori, allora nello scorso video mi avete consigliato di mettere i due centrocampisti ovvero Yosong Go e Kaynon metterli in modo tale che, modificare il loro piano di allenamento in modo tale che possano diventare dei centrocampisti se non ricordo male, andiamo a controllare, dovrei averlo già fatto questo discorso ma prima infatti ho messo che devono diventare dei cicci quindi sono già impostati per fare il cambio di ruolo Loi Kaynon vuole ancora 38 settimane per fare il cambio di ruolo o Song Go, ho sbagliato, andate qua, scusatemi o Song Go, invece Song Go, Song Go Go, Yo, Do, So e infatti anche lui è messo come futuro il cicci e vuole 143 settimane ancora cazzarola, è duro di comprendonio questo questo è duro di comprendonio non capisce bene cosa deve fare, come deve farlo e quando deve farlo detto questo signori, andiamo avanti noi abbiamo la nostra formazione titolare che scende in campo se non sbaglio si, facciamo riposare le Smith e mettiamo dentro la Dino Sullivan di Aguura, Wilding, Price, 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 Price non abbiamo l'esterno sinistro di ricambio, perfetto quindi Pringles se la gioca tutte Henry Stanco gioca Gibson anche in difesa facciamo il cambio e mettiamo Percival e a posto di Lavandino può giocare Vazela la facciamo giocare lì, che forse ha imparato a fare il difensore ma dovrebbe aver imparato anche a fare l'esterno destro però non lo so, non mi è chiara questa cosa, questa cosa non mi è chiara perché mi spunta solamente come difensore centrale, va bene e Melor, Melor e Melor praticamente non abbiamo altri sostituti per quel ruolo lì detto questo signori, scendiamo in campo incrociamo l'incrociabile e vediamo come va a finire contro il Tremere le Tremere signori, le Tremere vediamo che cosa ci dice questa partita simulazione veloce nei commenti mi avete anche scritto eventualmente qualche partita di giocarla ma questa, oh 2-0, bella così gol di Stockholm poi Stockholm l'ha sbagliata ma Wilding al 76 fa il 2-0 è uscito Stockholm per Songo è uscito Aladino per Kanon è uscito Pringles per Slow ok, va bene, va bene così signori 3 punti d'oro 3 punti d'oro signori 3 punti d'oro, andiamo avanti andiamo avanti andiamo avanti, veloce, rapido e in dolore easy, busy, lemon, squeeze, signori dai così, dai così, dai così dai, dai, dai ora, andiamo avanti andiamo avanti, andiamo avanti, andiamo avanti vediamo se oh, allenamenti gli ho fatti questi allenamenti gli ho fatti questi allenamenti, gli ho fatti dai così, tutti a signori bello, bello, veloce, pulito e rapido ok, dai così dovete crescere, dovete crescere giocatori, dovete crescere andiamo avanti con il calendario prossima partita il campionato è il 19 se non sbaglio questi li ho fatti gli ho fatti gli allenamenti tutti, tranne l'ultimo e dai, simula, non rompere le scatole prenderemo D sicuramente e se non fai gli allenamenti prendi D cioè è una cosa standard oramai è una cosa standard andiamo, 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 andiamo la prossima partita il giorno 19 settembre dai che poi abbiamo due partite in rapida successione allora, la squadra che vince non si cambia, signori io lascio dentro questi non cambia nulla tanto hanno riposato tutto hanno riposato tutti l'unico che andrà a sostituire è Vasela che andiamo a mettere il lavandino che sta meglio e al posto di Sullivan facciamo giocare il giardino il nostro giardino che ancora deve fiorire ma è il più forte di Sullivan quindi si sta guadagnando il suo bel posto da titolare dai che scendiamo in campo contro l'exter contro l'exter contro l'exter simulazione veloce dai così tre punti anche in questa partita sarebbe tantissima roba che famo due a uno bella così signori gol di Pringles e gol di giardino i nostri due esterni colpiscono pesantemente bella così bella così signori dai così due vittorie in due due su due riuscissimo a fare tre su tre sarebbe l'apoteosi signori l'apoteosi abbiamo una partita di coppa contro l'fk contro il bristol city la prossima partita quando è scusatemi fatemi vedere se poi c'ho il tempo di far riposare i miei giovani sì 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 qualche giorno si possono riposare quindi mandiamo in campo il titolare di noi signori spremiamolo spremibile spremiamolo spremibile sfruttiamo il buon momento del nostro umore cambe dai così dai così attenzione in coppa in fl non so che sarò di coppa e perdiamo 2-0 va bene ci stava ci stava ci stava la coppa ancora non sono le nostre competizioni signori le coppe ancora non sono le nostre competizioni non facciamoci caso non preoccupiamoci ma andiamo avanti prossima partita oh sti sti allenamenti dai così questi li abbiamo fatti tutti avanti sì 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 buono buono così buono così andiamo avanti il prossimo incontro è il Bristol se non sbaglio non è il Bristol questo Bolton chiedo scusa il prossimo incontro è fondamentale Davis chi sei Davis presentati Davis chi sei il difensore centrale Davis contento ci penserò va bene lo facciamo giocare a Davis signori sennò si incacchia parecchio allora 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 facciamo dei cambi facciamo dei cambi mettiamo qui a centrocampo mettiamo Kanon e Ozon Go così li facciamo giocare anche a loro Giardino si riposa per Sullivan facciamo rifiatare Percival e gioca Davis e a posto di Gibson gioca Andrew anche se è un poco più stanco va bene e questi vanno bene così McCallum Aladino potrebbe riposare per le Smith no no l'Aladino lasciamo dentro leviamo Stockholm per le Smith facciamo così facciamo così terza partita della giornata del campionato signori ci siamo a fare tre su tre mi basterebbe anche un pareggio dove siamo siamo sesti siamo sesti signori niente male niente male con due partite con due vittorie siamo risaliti velocemente ci infiliamo anche la terza signori tre su tre sarebbe bellissimo che famo perdiamo una zero ecco mi sembrava troppo mi sembrava troppo è uscito Aladino per slow e loro hanno segnato il cinquantatresimo con Miller e va bene due vittorie una sconfitta signori iniziamo una lenta risalita potrei anche crederci nella promozione diretta subito quest'anno potrei anche crederci andiamo concludiamo il video signori andando avanti ah che rotto va bene simula sì 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 simula simula pigliamo D nelle altre prendiamo A questo era l'importante va bene così andiamo avanti signori vediamo cosa ci porta i nostri osservatori arriviamo al primo ottobre arriviamo al ridosso della partita oh sti allenamenti mamma mia simula tutto sì 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 va bene non fa nulla quelli prendono una D non fa nulla non fa nulla non fa nulla non fa dolore dovremmo fare gli allenamenti signori li farò li farò promesso promesso che recupereremo anche questi questi allenamenti arriviamo al ridosso della partita di campionato andiamo a vedere chi ci hanno portato i nostri osservatori ok allora primo osservatore dall'Irlanda abbiamo Shane McGinn 67-93 questo non sembra male questo non sembra male portiamocelo dentro se decidi di si ingeggiare a rimuovere questo giro dall'osservatorio un milione portiamocelo dentro Christopher Sullivan questo lo contiamo a osservare Doughty 60-80 no questo lo scartiamo subito signori Tom Cruise Tom Cruise no via Tom Cruise e Owen McGovernant no ci teniamo solamente qui pizzetto carino che potrebbe essere interessante ce lo teniamo ci teniamo semplicemente pizzetto pizzetto simpatico vediamo Smith dall'Inghilterra invece che ci ha portato questi sono quelli che stiamo continuando ad osservare noi Xanon Latan non mi sembra sto gran che signori non mi sembra che vada migliorando passando il tempo via Hugo Scott Hugo Scott 75-93 adesso non sembrerebbe male continuiamo ad osservare David Dean 72-92 non sta neanche sembrerebbe tanto male ma un centro capista ce l'abbiamo Evan Wade 61-79 questo non si è capito che ruolo che ruolo vuole giocare ancora confuso ragazzo Teddy Waltos 64-84 questo non si è capito che ruolo fa vediamo quelli nuovi Edman 47-62 mamma mia inguardabile Elige Van Ness 15 anni mamma mia inguardabile pure questo signori Theodore Drake 47-65 anche lui inguardabile niente ci teniamo loro ancora vediamo cerchiamo di capire giusto che ruoli fanno e niente da fare andiamo a vedere semplicemente quello che ci siamo portati ora in rosa chi è che vuole parlare David sei contento non stressarti zio rilassati fatti un giro il sabato sera anche se non si può fare ma stai tranquillo e non stressarti tu e non stressare me soprattutto andiamo a vedere quel giovane che abbiamo preso che chi cazzarolo era Boo Stevens lui McGree Sean McCree lui irlandese chi cazzarolo l'abbiamo portato in prima squadra signori lui può essere che valeva un mignoncino Boo non mi ricordo chi che ci siamo portati in prima squadra signori comunque o è lui o è Steven Evans Steven Evans fa schifo fa schifo lui non è male ma è un attaccante destro non ce ne facciamo niente abbiamo tre attaccanti esterni che non ce ne facciamo niente un cornuto che mamma mia inguardabile 68-80 mamma mia Evans che però a sinistra siamo messi bene mamma mia siamo messi male signori come giovani siamo messi proprio male detto questo signori io vi ringrazio per guardare questo video vi ringrazio per i like per i commenti per i suggerimenti noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo contenuto bella raga ciao